ciao mi chiamo alessio ma sul web mi conoscono come pk palindromo e da molti anni posto sui social non ho un format ben preciso il format sono io è il mio modo di affrontare i vari tipi di contenuti sempre cercando di essere il più originale possibile io dico sempre quello che penso sono sempre onesto non cerco mai di tenere il piede in due scarpe pur di non inimicarmi qualcuno sono sempre schietto trasparente dico tutto quello che penso e questo secondo me rende così bello il rapporto che ho con la mia community il consiglio che mi sento di dare a chi vuole iniziare ora è di essere originale perché ormai su tutte le piattaforme c'è tutto e di ogni cosa ce ne sono mille versioni diverse per cui se voi volete emergere dovete avere quel qualcosa in più e non fate mai le cose perché vanno di moda perché quella roba lì è super effimera passa subito voi dovete cavalcare una vostra passione o un vostro talento e andare dritti per la vostra strada anche se all'inizio vi sembrerà molto difficile secondo me lo scenario futuro per i creator sarà sempre più professionale ormai la qualità i talenti che giocano in questo campionato sono talmente alti che per riuscire a tenere il passo bisogna alzare la qualità per cui il consiglio che do a tutti i creator è studiate più cose saprete fare meglio saprete tenere il passo delle varie piattaforme ciao ragazzi a presto